Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io Mattia99, oggi parliamo di un fumetto che si chiama Superman, l'uomo d'acciaio. Questo fumetto mi piace tanto, è nuovo e non vedo l'ora di leggermelo questo fumetto. Questo fumetto l'ho comprato da Amazon il 5 luglio. Superman non è della Marvel, è della DC Comics. Editore Lallion. Il prezzo lancio è 2,95€. Poi dietro abbiamo la pubblicità degli altri fumetti, Batman hanno due, Batman e i super amici e Superman l'uomo d'acciaio che già ce l'ho. E poi c'è anche Batman il cavaliere oscuro a fumetti, è quello che mi manca. Ok ragazzi, il video è finito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!